Questo è un tutorial per fare una risoluzione personalizzata su Fortnite. Quali sono i vantaggi della risoluzione personalizzata? Per prima cosa, boost agli FPS. Prima cosa. Andrete in questo caso a diminuire l'asse X, ma ad aumentare l'asse Y. Cosa vuol dire? Che streccerete l'immagine. Facendo questo avrete un maggior campo visivo sull'asse Y, riducendo però l'asse X. Oltre a questo avrete meno input lag, avrete una visione migliore durante le build fight, perché ovviamente i fight sono verticali. E oltre a questo vedrete le sagome degli omini molto più grandi e sono più facili da colpire. Come si fa questa cosa? La prima cosa da fare è andare qui, pannello di controllo Nvidia, e aprire il pannello di controllo Nvidia. Qui potrete vedere tutte le risoluzioni disponibili sul vostro computer. Io sto utilizzando un monitor 2K in questo momento, quindi la mia risoluzione massima per la X è 2560, per la Y è 1440. Per chi ha un monitor full HD, cioè 1080p, ha questa risoluzione massima, 1920x1080. Vuol dire che se voi cercate di creare una risoluzione customizzata, personalizzata, non potete superare i valori massimi della risoluzione nativa del vostro monitor. Cioè io non posso andare a superare la risoluzione 2560 o 1440. Andando a fare questo, se voi volete creare una risoluzione, ragazzi è semplicissimo. Basta che voi andate su personalizza, crea risoluzione personalizzata, e qui pixel orizzontali e linee verticali potete andare a mettere le impostazioni che volete. Ovviamente mettete l'ersaggio maggiore possibile che potete, e via. Nient'altro. Non dovete applicare assolutamente nessuna risoluzione personalizzata o nessuna risoluzione che volete mettere in gioco. Dovete tenere quella del vostro monitor nativa, full HD, 2K o 4K. Quindi questo lo andiamo a chiudere. Ok? Ci siamo ora? Andiamo ad aprire questo, questo PC. Dovete andare ad aprire questo PC, dovete andare su disco locale C, dovete andare su utenti, poi il vostro utente con cui siete loggati di Windows sul vostro desktop, laptop, cazzi e mazzi. Andare qui, fare visualizza. Qua dovete mettere la spunta su elementi nascosti perché vedete che non si trova la cartella AppData. Fate questo. AppData. Local. Cercate Fortnite Game. Saved. Config. Andate su Windows Client. Game User Settings. Questo è il file di testo che bisogna andare a modificare. Tasto destro, proprietà. Qui c'è scritto attributi solo lettura. Andate a levare attributi solo lettura in modo che potrete modificare il file di testo. Doppio clic. Ok, cosa bisogna modificare qui? Bisogna modificare queste quattro stringhe con i valori dell'asse X e Y che volete mettere in base alla risoluzione che cercate. Ok, che risoluzione? Come vi ho detto non potete superare i valori del monitor nativi. Ok, quindi io non posso andare sopra il 1440 per l'asse Y. Ve lo faccio vedere meglio. Mettendolo così, almeno si vede meglio. Non si può andare a superare la risoluzione quindi sull'asse Y di 1440 perché il 2K massimo è 1440. Io ho messo 1920x1440 perché vi è una risoluzione 4 terzi strecciata. Ma mantengo comunque un full HD superiore al 1080p. Per chi ha un monitor 1080p io consiglio 1600x1080, 1440x1080, 1600x102 qualcosa, 1728x102, vabbè ci sono mille risoluzioni. Dele dovete trovare voi, le dovete cercare quelle che vi piacciono di più. Comunque, una volta modificate queste cose, modificate con i valori che volete mettere, andate qui su file, salvate, chiudete, andate qui su game user settings, proprietà, solo lettura, applica, chiudete ora tutto. Perché si mette il solo lettura? In modo che il gioco non può andare a cambiare i file di testo. Doppio clic su Fortnite, avviamo il gioco, Gigi Norè, risoluzione strecciata, ora lo vedrete. Questo è un tutorial. Almeno così potete utilizzarlo e avete anche capito quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Ovviamente con un monitor 2K mantengo una grafica di livello altissimo ed è più bello da vedere. L'immagine viene ovviamente sgranata se giocate in full HD. E cercate di giocare in 4 terzi, 16 decimi, 40, 27esimi e qualsiasi altra risoluzione voi utilizzate. E non ci si può fare niente, proprio perché ovviamente quella è full HD. Voi state andando a una risoluzione inferiore a full HD. Ok? Questo è tutto. E ora si sta aprendo il gioco. Ecco che la risoluzione è strecciata. L'ultimo consiglio che posso dare se avete la risoluzione strecciata e vi si vede blurrato, sfocato, è quello di mettere il post processing. Io l'ho provato ad utilizzare il post processing e va a mettere un effetto di sharpening, in italiano nitidezza. Va a mettere un effetto di nitidezza. Lo trovate qui, impostazioni, ed eccolo qua. Vi consiglio di mettere un medium, non mettete la epic, vi crea dell'input lag. Io oggi ho giocato con questo disattivato, ma essendo la grafica pompata, giocando su un 2K, posso pure non utilizzarlo. Però per chi gioca in full HD, questo è importante perché vi va a levare un pochino di quella sensazione brutta di grafica schifosa e slavata. Questo è tutto boys, io vi saluto. La grafica, vedete, è 1920x1440. Display resolution, che è la risoluzione del mio monitor, però è 2560x1440. Quindi cosa succede? Che va a prendere le texture e le streccia, le allunga così, capito? Ci siamo riusciti. Let's get it boys. Questo era il tutorial. Gigi Norè.